Signore e signori, ragazze e ragazze, bambini e bambini, siamo qui di nuovo! Per compagni e luci, so quando in questa vita, stasera, voglio e faccio una sorpresa. C'è la vecchia che ha sul banco, con un'altra vita, la risola, e sanguina, guarda il bagno, forse più. E sono gli occhi, a pistole, riscaldati, richiedi, richiedati, a belloni, la bianchistia e i bambini. Porta cortese, porta cortese, porta cortese, porta cortese, cosa fai? Ma mica ci perdiamo qui, perché questa sera abbiamo anche un vent'appo ballerini con isti, le 52 anni di superformer. Forne! Quando avanti ha con l'Italia, la raccente che si affolla, le 4 a te che ti affolla, che non ha. C'hai tutto, per il suo campo.